Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto a tutte voi e a tutti voi da Denise Arcieri. Lo scorso 11 maggio è stata inaugurata presso la Galleria Sacca, che si trova a Modica in Via Sacro Cuore, la mostra dal titolo Paradisiaca e potrà essere visitata fino al 28 giugno. La mattina, il martedì, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e il pomeriggio, dal martedì al sabato, dalle 16.30 alle 19.30. E noi oggi abbiamo il piacere di avere il curatore e nonché fondatore della Galleria, Giovanni Scucces, con cui parleremo di questa mostra. Ciao Giovanni! Sì, salve, grazie a voi, un saluto ai nostri ascoltatori. Giovanni, questa è una mostra che invita ad indagare la connessione tra uomo e natura e a riflettere sulle ferite causate alla natura dall'uomo, ma anche ad ascoltare il grido disperato della natura devastata, maltrattata e sfruttata. L'idea è dunque quella di denunciare, metterci di fronte alle nostre responsabilità, ma allo stesso tempo anche indicare una via di uscita, impegnarci proprio a riapprovarci di questo rapporto armonioso. Spiegaci tu nei dettagli il messaggio. Paradisiaca nasce con l'intenzione di donare appunto allo spettatore, a chi verrà a visitare la mostra, una sensazione che è appunto paradisiaca, come vuol dire il termine stesso, è un qualcosa proprio del paradiso e quindi di un luogo idilliaco naturale che riesce comunque a donare a noi meraviglia, ma anche una sensazione di benessere. Questo perché, come ha detto Denise, ormai da anni il tema della natura ci tocca profondamente da vicino, più che altro per gli aspetti quelli un po' più, diciamo, nefasti, legati all'azione dell'uomo e quindi ai risultati che poi purtroppo spesso ne conseguono. L'idea invece stavolta è quella di riflettere su ciò, ma puntando l'attenzione sull'aspetto quello più bello legato alla natura, trattando quindi questa tematica attraverso delle opere di sette artisti, di varia provenienza, sia siciliani, sia non, di vario background, nati principalmente tra gli anni 70-80, ma anche con qualche giovanissimo del 2001, e quindi appunto offrire allo spettatore questa sensazione appunto di benessere. Tra l'altro era curioso il fatto che avevo rintracciato pure uno studio dell'American Psychological Association, appunto un'associazione degli psicologi americani, in cui diceva che bastava semplicemente la visione della natura per avere dei benefici a livello umano. Quindi ho pensato come questo effetto potesse essere in qualche modo ingigantito, cioè aumentato anche lì l'esponenziale, mettendoli insieme al potere terapeutico dell'arte. Dicevi sette artisti, Daniela Balsamo, Antonio Bardino, Giovanni Bongiovanni, Simone Bubbico, Emilia Faro, Elisa Zadi, Davis Zambotti. Ognuno di loro offre il suo personale punto di vista nel mostrare anche la bellezza appunto del mondo naturale. Spiegaci un po' meglio come si manifesta, si concretizza, si risolve questo rapporto tra essere umano e natura in ogni singolo artista. Naturalmente gli artisti ognuno a suo modo trattano questa tematica in maniera differente. Abbiamo ad esempio la Balsamo che ricrea comunque degli ambienti abbastanza surreali mettendo insieme sia l'aspetto naturale, soprattutto inserendo degli elementi legati sia alla flora che alla fauna, insieme a degli elementi invece provenienti da ambienti antropici, in particolare spesso dai salotti, diciamo, della media alta borghesia, creando quindi questo, in un certo senso, contrasto tra uomo e natura perché abbiamo come la sensazione che la natura si riappropriasse un po' di questi spazi, anche perché questi elementi, questi oggetti, questi suppellettili non sono neppure sgualciti, rovinati, quindi possono inquietare queste scene ma non è una vera e propria paura, ma è più che altro un'attrazione perché si ha come la sensazione di un raggiungimento, di un'armonia tra le due cose. Mentre invece, andiamo ad esempio Simone Bubbico, lui riprende i corpi della statuaria classica, ad esempio greca, romana, e da là fa rifiorire dei fiori. Quindi, in qualche maniera, lui crea questa simbiosi uomo-natura ma allo stesso tempo è come se lui volesse far rifiorire quell'età idilliaca legata a una sensazione, a un ricordo di un'età dell'oro, sì, in un certo senso, e farla rifiorire anche perché ricordiamo che la natura comunque ha questa forza di, in certo senso, risorgere anche dalle ceneri, nel senso, anche dopo un forte stress, una mutazione, comunque la natura ha questa capacità di, appunto, rifiorire ed è quello che lui vuole legare a un ritorno all'età dell'oro, all'età classica. Poi invece andiamo ad Antonio Bardino, in cui lui ricrea su tela, se li vediamo soprattutto nel loro complesso, come dei giardini botanici, perché in maniera differente si concentra o sull'aspetto della natura, della flora, quando essa viene addomesticata portandola all'interno delle nostre case, ma anche sotto l'altro punto di vista, invece, la natura quella più selvaggia e quindi anche rigogliosa, con delle inquadrature, degli angoli, quindi lontani dall'idea di cartolina, che vengono riproposti su questa tela, che si stagliano davanti a noi, ma nonostante ciò ci invitano anche ad attraversarli, ad immergerci nella natura. Poi abbiamo, ad esempio, Giovanni Bongiovanni, il più giovane di questa mostra, ci presenta, ad esempio, dei lavori, due piccolini, uno più grande, in cui, ad esempio, in quello grande ci sono tre ragazzini proprio immersi in questo ambiente selvaggio, tra l'altro a lui molto caro, quindi un ambiente che ha vissuto in prima persona sin da piccolo, a suo dire, un luogo che ha una grande energia e quindi immergersi giocando all'interno di questa natura con, però, l'ultimo ragazzino che si volta verso di noi, quindi, in un certo senso, vuole coinvolgerci, ci porta ad entrare nella scena, ci interroga, ci invita ad esperire la natura anche insieme a loro, o in altri, appunto, in cui invece la presenza dell'uomo è solepotizzata, perché vediamo un prato in cui c'è questa erba, insomma, questo cespuglio, in cui si capisce che magari poco prima c'è stata la presenza dell'uomo che si era adagiato su questo prato, oppure attraverso una luce che rischiara questi cespugli. Quindi, come abbiamo detto, vengono trattate in maniera assolutamente diversa queste tematiche. Ad esempio, abbiamo Emilia Fara, invece, che queste palme comunque svettono verso l'alto, c'è la loro simbologia abbastanza chiara, quindi un incontro tra l'aspetto quello più umano e quello divino, ma allo stesso tempo la palma è anche simbolo, l'incontro tra uomo-donna, tra maschio-femmina. È stato un modo per cercare di perpetuare la palma anche in seguito al famoso attacco che circa vent'anni fa ci fu, il punteruolo rosso, che portò alla morte, per esempio, una miriade di palme. Ed è proprio da allora che lei comunque poi ha iniziato a dipingere queste palme per cercare, in un certo senso, di perpetuarle, vista questa, insomma, moria che li ha colpiti. E poi le ultime due artiste sono Elisa Zadi, Toscana, in cui la connessione tra uomo e natura può essere vista sia sotto l'aspetto introspettivo, ma anche simbolico, antropologico. La curiosità, ad esempio, che nelle sue opere c'è spesso la presenza umana, questa presenza umana non è altro che lei, che si autoritrae queste opere e attraverso, insomma, poi il proseguo del suo lavoro nelle varie serie, si vede, ad esempio, in un primo lavoro, che è quello, diciamo, precedente rispetto agli altri, si vedono solamente le sue gambe, come se è in cammino verso la ricerca di un qualcosa e anche di se stessa. E tra l'altro, la curiosità a questo lavoro è stato fatto proprio in seguito a un soggiorno siciliano. Rispetto agli altri lavori si nota subito anche la differenza dei colori, che sono molto più vivi, più caldi, più accesi, mentre nelle altre sue opere i colori rispecchiano comunque anche il diverso clima che abbiamo, naturalmente, tra Sicilia e il Nord. Poi, nell'altra opera, che fa parte della serie Tempo Perduto, invece, lei riflette su questa condizione di precarità a cui, insomma, ormai sottostiamo da diversi anni e quest'atto di svestirsi è un po' come se lei volesse togliersi dei pesi di dosso e di riconnettersi con la natura e che è comunque sempre presente nelle sue opere sotto forma sia di fiorescenze, di alberi, piante, ma anche sotto forma, nel suo caso, di cielo. Ad esempio, nell'ultima opera c'è sul fondo questo cielo stellato, tra l'altro, poi, all'interno di questo cielo evidenzia anche la costellazione del toro e il suo segno zodiacale. Si mette lei stessa all'interno dell'opera. È come se lei stesse facendo un suo percorso spirituale, ma anche di vita, perché comunque un'altra cosa molto bella è che è venuto fuori il fatto che lei da qualche anno vive all'interno di un bosco e quindi questa cosa si riflette molto bene anche all'interno dei suoi lavori. Quindi è comunque veramente una ricerca proprio introspettiva e interiore sua, appunto, si ripercuote questi suoi lavori e quindi, di conseguenza, anche nei confronti dello spettatore che va a vederli. E infine, Davis Zambotti, invece, utilizza un altro medium, la fotografia, anche se prima a Keaton quasi non si direbbe, perché è una fotografia molto evanescente in cui sembra che lei riesca ad infondere sia il senso di movimento, perché questa mancata messa a fuoco, sfocatura, comporta praticamente una sorta di sfasfallio e quindi dona alle immagini, in questo caso, a questi alberi che spesso si vedono in queste foto, questa sensazione di movimento. Quindi è come se infonde vita. E allo stesso tempo ha anche una sensazione di fragilità e quindi potremmo dire che, come un po' tutte le cose fragili, se noi abbiamo intenzione di proteggerle, comunque dobbiamo prenderci cura di loro. Giovanni ha detto che la maggior parte delle opere ci invitano a immergerci nello spazio, in questa natura, un po' a sfogliarci, diciamo, del superfluo e riappropriparci dell'essenziale. E questo è un po' l'invito che è anche rivolto a chi verrà a visitare la mostra. Abbandonare il grigiore della città. Sì, infatti, come dicevo inizialmente, voglio donare attraverso questa mostra questa sensazione di piacere che si può avere riconnettendosi con la natura. Naturalmente è un qualcosa che in questa maniera avviene non in maniera diretta, quindi come andando all'interno di un parco, di un bosco, ma attraverso l'arte. E appunto per questo la connessione tra arte e natura sfruttando un po' entrambi i benefici, sia quello dell'aspetto naturale e sia quello legato all'arte. Tra l'altro è bene ricordare che da sempre praticamente l'uomo ha cercato di rapportarsi con le tematiche naturali. Naturalmente nel corso del tempo la rappresentazione della natura è variata molto. Se noi pensiamo dalle prime attestazioni nelle nostre grotte, nei nostri antenati fino alle ultime rappresentazioni invece che arrivano agli inizi del Novecento in cui la natura poi è stata trattata in maniera meno realistica e diciamo più dinamica perché comunque è stata trattata sotto l'aspetto quello legato più alla luce ad esempio con gli impressionisti o al cubismo fino ad arrivare anche al surrealismo quindi legando un po' la realtà all'immaginazione cosa ad esempio che è avvenuta in questo caso con l'artista Daniela Balsamo. Invitare quindi il visitatore a una conversione ecologica a una conversione anche interiore sul suo modo di rapportarsi con lo spazio, di vivere lo spazio e le relazioni anche con gli altri. Quindi fermarsi, ritornare a una vita più lenta e ad abbandonare questo grigiore cittadino che a volte ci immobilizza forse anche. Quindi cosa ti auguri da parte dei visitatori? Mi auguro che arrivino con la volontà intanto di approcciarsi a queste opere cercando di capire le intenzioni che ciascun artista ha voluto esprimere attraverso esse quindi a confrontarsi con loro cercando di deporre un po' i vari preconcetti lasciando la vita frenetica di tutti i giorni e riconnettendosi attraverso queste opere invece con la natura che da sempre comunque ha visto legarsi all'uomo in maniera indissolubile al di là di tutti questi eventi che purtroppo spesso invece la portano alla cronaca. La mostra potrà essere visitata fino al 28 giugno il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e il pomeriggio dal martedì al sabato dalle 16.30 alle 19.30. Prima di salutarti Giovanni lasciamoci con un pensiero sul domani c'è qualche altro progetto previsto per quanto riguarda la galleria? Il mese di luglio ci sarà il programma un'altra mostra una personale stavolta di un artista tra l'altro di origini ragusane Giorgio Di Stefano ormai da anni vive a Firenze la sua particolarità è il fatto che utilizza spesso come supporto la famosa carta burda la carta modello che viene utilizzata dai Sarti per lui diventa più supporto invece per realizzare queste sue opere che tra l'altro in alcune serie riprendono proprio anche delle tematiche sacre quindi vi invito a seguirci e a venirci a trovare anche prossimamente per il prossimo evento Grazie Giovanni per essere stato con noi Grazie sempre a voi Salute e ringrazio tutti i radioscoltatori e le radioscoltatrici per averci seguito A presto Denise Arce Grazie mille a tutti i radioscoltatori Grazie a tutti